Tutte le cose che vuoi cambiare di te stesso sono ciò che tu sei sono la tua forza negalo e non sarai nessuno è un dovere dare ascolto a quello che sentiamo dentro e se uno si è guadagnato il diritto ad essere quello che è nessuno glielo toglie mi hai insegnato l'unica cosa, la sola cosa che non devo mai dimenticare è non arrenersi mai non nullare mai i grandi momenti derivano da grandi opportunità è il vostro momento era destino che vi trovaste qui ora ti dirò una cosa scontata guarda che il mondo non è tutto rose e fiori è davvero un postaccio misero e sporco e per quanto forte tu possa essere se glielo permetti ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita perciò andando avanti non è importante come colpisci l'importante è come sai resistere ai colpi come incasti e se finisci al tappeto hai la forza di rialzare così sei un vincente tante cose ci vengono tolte ma questo fa parte della vita però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri siamo all'inferno adesso signori miei credetemi e possiamo rimanerci farci prendere a schiaffi oppure aprirci la strada lottando verso la luce noi siamo nati per rendere manifesta la gloria che c'è dentro di noi non è solo in alcuni di noi è in tutti noi ci sono momenti in cui vinci certo in cui pareggi, perdi lasci o raddoppi capita a tutti di perdere qualche volta e allora fai bagagli e torni a caso continui a lottare ci sono momenti nella vita infine in cui perdi te stesso e altri in cui perdi davvero tutto vuoi mollare? te ne vuoi andare? se molli adesso mollerai ogni giorno finché vivrai mollare? ti preoccupi troppo di ciò che era e di ciò che sarà dovete guardare il compagno che avete accanto guardarlo negli occhi determinato a guadagnare terreno con voi che si sacrificherà volentieri per questa squadra consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui questo è essere una squadra signori miei questa squadra si combatte per un centimetro questa squadra massacriamo di fatica da noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale allora farà la differenza farà la vittoria io nella mia vita ho perso molto e molto ho ritrovato c'è qualcosa che proprio mi riesco a perdere e questa cosa si chiama speranza la speranza è una cosa buona forse la migliore delle cose e le cose buone la nostra vita è tutta lì in questo così la nostra più grande paura non è quella di essere inadeguati la nostra più grande paura è quella di essere potenti al di là di unismo questo è quello che avete meritato credi nei tuoi sogni e lui crederà in te e riusciremo a batterli perché possiamo non è un semplice sport ma uno stile di vita grazie grazie